Covid-19, scende la curva dei contagi. In Sicilia 770 nuovi casi, a Siracusa aumentano i positivi, sono 136. Sono 770 nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 18.441 tamponi processati. L'incidenza scende di poco al 4,2%, ieri era al 4,7%. L'isola resta sempre al primo posto per nuovi contagi giornalieri, seguito da Lombardia e Veneto con 596 casi. Gli attuali positivi sono 26.255 con un decremento di 98 casi, i guerriti sono 843, mentre si registrano altre 25 vittime che portano il totale dei decessi a 6.568. La Regione Sicilia comunica che i decessi segnalati oggi sono avvenuti 1.09 settembre, 11.08 agosto, 1.07 agosto, 1.06 agosto, 1.27 agosto, 1.17 agosto, 1.13 agosto, 1.12 agosto. Sul fronte ospedaliero sono adesso 907 ricoverati, 6 in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 106, 2 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda il numero dei contagi nelle singole province, la situazione è la seguente. Palermo 114, Catania 138, Messina 150. Siracusa 136, Ragusa 47, Trapani 106, Caltanessetta 36, Agrigento 30, Enna 13.